Sono entrato a una palestra di scherma a cinque anni e mezzo, prima di entrare a scuola, praticamente, qualche giorno prima, e ho fatto scherma sulle pedane olimpiche fino a che non sono proprio diciannove. Io da quando sono nato mi avevo le mie paresi, dovuta all'asfissia cerebrale da parto, però fino a diciannove anni non ho fatto scherma sulle pedane olimpiche. Mentre stavo, in quel momento non tirando, ma arbitrando una gara di bambini, un tecnico della Nazionale Paralimpica, che era lì a seguire i ragazzi, mi ha proposto di trovare e da lì è cominciata la mia avventura nuova nel mondo paralimpico, che al tempo era veramente una novità, se possiamo dire. Nel 2005 era una novità.